buongiorno ragazzi oggi calcoliamo l'area compresa tra due curve prendiamo in considerazione due curve positive nell'intervallo a b f di x che mettiamo la funzione con la gobba e poi g di x gli estremi di integrazione facendo il sistema tra le due curve posso trovarli e chiamiamo a e b la x di questi punti di intersezione a grande b grande io voglio calcolare l'area che c'è tra queste due curve quindi la nostra a ma si crea per costruzione anche l'area a primo e dovremo fare in modo di non considerarla per il video precedente l'integrale tra a e b di f di x in dx è proprio l'area che sta sotto f e quindi la somma tra a e a primo l'integrale invece tra a e b di g di x in dx sarà ovviamente l'area che sta sotto la funzione g di x e quindi solo a primo l'integrale quindi del tra e b della differenza delle mie due funzioni f di x meno g di x mi darà proprio l'area che voglio perché verrà a più a primo meno a primo ora consideriamo il caso di avere le stesse curve semplicemente traslate sotto l'asse delle x quindi l'area tra due funzioni negative per comodità le disegniamo proprio uguali pensiamo proprio che sia il disegno di prima traslato sotto l'asse delle x abbiamo il punto a e b di intersezione che trovo con il sistema tra le curve e le due x a e b allora mi si forma l'area che quella che voglio è l'area a primo per costruzione facciamo l'integrale definito tra a e b di f di x in dx in questo caso è l'area che si trova sopra la curva f di x e avrà valore negativo quindi ci metto già un meno davanti e viene meno a primo l'integrale tra a e b di g di x in dx sarà l'area sopra g e quindi viene meno a primo meno a mettiamo il meno per mettere in evidenza che a e a primo sono positive col meno davanti sono negative calcoliamo l'integrale tra e b della differenza delle nostre due curve e mi verrà meno a primo meno a primo meno a come vedete viene di nuovo a anche se le due curve erano disegnate sotto l'asse delle x adesso prendiamo l'area tra due funzioni che sono semplicemente continue tra a e b anche nei due casi precedenti ovviamente le funzioni dovevano essere continue come le ho disegnate nell'integrale definito quello deve avvenire sempre funzioni integrande e continue nell'intervallo di integrazione ci costruiamo le nostre aree qui vedete che si formano più aree a 1 per costruzione a 2 e a 3 la cui somma è l'area che devo trovare e a 4 andiamo a vedere calcoliamo l'integrale tra a e b della funzione f di x in dx questa sarà la somma di tre aree positive a 1 più a 2 più a 3 più a 4 ho detto una bugia invece l'integrale tra a e b della funzione g di x in dx mi darà l'area positiva 1 l'area negativa meno a 3 che adesso così l'abbiamo indicata bene più a 4 se vado a fare l'integrale tra a e b di f di x meno g di x in dx mi verrà la somma delle prime tre aree meno le altre quindi meno a 1 più a 3 meno a 4 semplificando le aree che possono essere semplificate mi rimane proprio la regione che volevo quindi quando l'area tra due funzioni indipendentemente dalla posizione delle due curve io faccio l'integrale calcolo le ascisse dei due punti e poi faccio l'integrale definito della differenza se sono partita da quella che sta sopra parlando di y non viene un'area positiva altrimenti devo cambiare il segno o invertire